25, 26 e 27 aprile, festa di primavera in piazza Indipendenza a Sannona di Piave, tantissime le iniziative, tantissimi gli eventi, anche una particolare performance artistica dello Yarn Bombing. Ma per parlarne abbiamo qui una delle promotrici di questa iniziativa che è Carla dell'Associazione Araba Fenice. Benvenuta in studio Carla. Grazie Daniela. Allora, intanto di che cosa si tratta? Che cos'è questo Yarn Bombing? Lo Yarn Bombing è una particolare forma di graffitismo. Siamo abituati e conosciamo tutti i graffiti pittorici. Beh sì, assolutamente. Questa è una forma... Anche criticati a volte, perché insomma, ecco, ci sono quelli molto belli e ci sono quelli che lordano, si può dire sporcano i muri delle città. Ma soprattutto sono quasi indelebili e molte città non sono disponibili a ricevere per sempre un graffito pittorico. L'intuizione dell'artista che avremo l'onore di ospitare a Saint-Denis è stata quella di creare una forma di graffitismo assolutamente removibile. Non servono pitture, non serve nulla se non un paio di forbici per rimuoverle. Sono puliti, ecologici e assolutamente temporanei. Quindi Carla, nello specifico che cosa farete in queste giornate della festa di primavera? E quali giorni? Perché due giorni, vero? Due giorni occuperemo lo spazio della zona pedonale di Corso Silvio Trentin. Sabato 26 aprile, dieci ragazze sandonatesi, capitanate da Michela del Fan Art Lab, decoreranno con la tecnica dello young bombing i lampioni, le fioriere, le panchine, i cestini della zona pedonale. Mentre la domenica 27 avremo l'onore, il privilegio e anche da un certo punto di vista un orgoglio avere qui in Italia a Saint-Denis Magda Saïg, la fondatrice della knit graffiti. Caspita, quindi verrà veramente? Sì. È certa questa cosa? Certa, l'ho sentita oggi, è molto contenta, è molto emozionata. Qui a Saint-Denis non sarà completamente di passaggio. Araba Fenice, con l'aiuto dell'assessore Polita, ha fatto realizzare un'installazione in legno, raffigurante, una reinterpretazione di un elemento presente nel vecchio cinema Astra. Sì. Che sarà di prossima apertura perché stanno completando i lavori del teatro Astra. Questa installazione è realizzata in legno, della grandezza di due metri per uno, sarà decorata da Magda Saïg e sarà interamente donata alla cittadinanza. Quando ci sarà finalmente l'apertura del nostro nuovo teatro Astra, l'installazione verrà portata nel foyer. Che bello. Ascolta, è in tutto questo l'associazione Araba Fenice? Araba Fenice è un'associazione nata tre anni fa dalla voglia di alcuni amici di unirsi e portare arte, cultura e spettacolo in giro per le due province a cui siamo più legati. C'è la provincia di Venezia e la provincia di Tremiso. Carla, avete scelto arte, cultura e spettacolo. Tre cose che, così mi pare di ricordare, hanno pochissimi fondi, vero? Pochissimi, sì. Sono poco calcolate. Pochissimo, sì. Tutto quello che facciamo è autoprodotto. In questo caso abbiamo avuto l'aiuto del patrocinio comunale di Sandona di Piave, che ci ha supportati in tutto e per tutto, e dei piccoli contributi da Veritas, SPA, e da Progetto Donna di Confartigianato. Una piccola parte anche dalla Banca San Biagio, dalla BCC. Perfetto, bene Carla. Quindi, in chiusura, vuoi ricordare tu l'appuntamento ai nostri telespettatori per le due giornate organizzate da Araba Fenice? Assolutamente sì. Ti ringrazio, Daniela. Vi aspetto tutti sabato 26 aprile e domenica 27 aprile in zona pedonale di Corso Silvio Trentin, dalle 15 alle 18. E poi dalle 18.30 nella piazza di Sandona di Piave, piazza Indipendenza, vi aspettiamo per la donazione ufficiale dell'installazione alla cittadinanza. Carla, ti ringrazio per essere stata qui. Ringrazio la tua associazione Araba Fenice e auguro a tutti una buona festa di primavera a Sandona di Piave. Grazie.